In collaborazione con Studio Spataro, amministrazioni immobiliari. Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo di bonus assunzioni giovani 2018. Abbiamo chiesto all'Avvocato Pollastro come funziona lo sgravio dei contributi IMSS e per quanto tempo può essere applicato. Sentiamo cosa ci dice. Buonasera. Buonasera. Stasera faccio un appunto su un argomento probabilmente un po' meno simpatico, meno diffuso, ma è un argomento sul quale invece ci sono domande, domande sia da parte di lavoratori che da parte di datori di lavoro. Come sapete, ne abbiamo già parlato una volta in passato, è stata in vigore un sistema di incentivazione all'assunzione di giovani, nel senso che il meccanismo reale è un abbattimento, un abbattimento sensibile al 50% per 3 anni dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, cioè un datore di lavoro che assume un giovane a tempo indeterminato, ha il diritto ad avere questo abbattimento significativo, molto significativo sui contributi previdenziali, mi correggo, sui contributi IMSS in effetti che sono quelli più grossi, rimangono invece integrali altri contributi tipo quelli dell'INA e dell'assicurazione di infortuni, ma l'abbattimento del costo del lavoro viene in questo modo fortemente ridotto. Come avevamo già detto, questo meccanismo è un meccanismo interessante, molto interessante perché a differenza delle solite cose che più volte vengono fatte in Italia su questi argomenti, non per la prima volta, però questo almeno istituto ha un carattere strutturale, cioè non è in prima applicazione per il 2018 facciamo questo e poi non si sa cosa succede alla fine dell'anno. Questo è un provvedimento di carattere strutturale che quindi andrà avanti anche nei prossimi anni, fino a che non cambia la legge evidentemente, ma non previsto con un termine già rigido di applicazione. C'è però anche un altro elemento che mi permetto di segnalare di particolare criticità è che è avvantaggio soltanto di lavoratori che sostanzialmente non abbiano mai lavorato. Chi ha avuto in precedenza esperienze di lavoro dipendente anche di breve durata, termine o quant'altro, non ha diritto a questo abbattimento di contributi, a questa dote e questo mi sembra un elemento sul quale vale la pena che il legislatore vada a ripensare questo argomento. Detto questo, la domanda che il lavoratore si pone, che già capita 1 o 2, ma quando cominciano a capitare 4 o 5, vuole dire che il problema che si pone è essenzialmente questo, che succede se io ho perso il posto di lavoro o meglio, sono stato assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha goduto del beneficio, dopodiché per una serie di motivi il posto di lavoro è andato perduto. Che succede adesso? Ho perso quel beneficio perché se vado da un'altra parte il datore di lavoro mi dice ma tu hai già lavorato, non posso godere. Non è vero, c'è un meccanismo che è stato definito dalla stessa IMS di portabilità del beneficio, cioè praticamente il lavoratore ha una dote che si porta dietro anche nel nuovo posto di lavoro. È chiaro, deve essere un datore di lavoro diverso, è chiaro, deve essere un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, ricordiamoci, a tempo indeterminato, perché questo beneficio è riconosciuto all'assunzione a tempo indeterminato e il nuovo datore di lavoro avrà diritto alla come dire, alla dote di assunzione ridotto quello che ha percepito il precedente datore di lavoro, cioè praticamente quello che rimane. È un elemento da tenere presente perché quando uno si presenta in un posto di lavoro può e deve segnalare anche questo aspetto che è oggettivamente di interesse per il datore di lavoro. Altro elemento è che il datore di lavoro, questo mi rivolgo soprattutto ai datori di lavoro, che trasformino contratti di apprendistato e quindi con una continuità rispetto al periodo di formazione di apprendistato, li trasformano, li convertono in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure gli datori di lavoro che convertino contratti di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto a godere di questo beneficio, di questo abbattimento di contributi e quindi in buona sostanza un sostegno oggettivamente non trascurabile al costo del lavoro, quindi un abbattimento del costo del lavoro e un'assunzione di giovani che ha il suo peso. Serve quindi questa segnalazione per i datori di lavoro, ma serve anche per i lavoratori, giovani lavoratori, che possono ricercare un posto di lavoro, presentarsi in un posto di lavoro, ma segnalare che hanno anche, come dire, si portano dietro, diciamolo così, una dote che è una dote in termini di soldi non trascurabile perché dura massimo tre anni per un abbattimento del 50%, alla fine sono un contributo davvero non trascurabile. Grazie. Oneri e spese condominali, chi paga in caso di vendita della casa? Abbiamo chiesto all'Avvocato Bortolotti di farci un po' di chiarezza. Parliamo del problema assai sentito e oggetto di moltissime richieste di chiarimenti, che è rappresentato da chi è tenuto a pagare le spese condominali arretrate o comunque residue nel momento in cui interviene una compravendita di immobili. È motivo di frequentissimo scontro, di anche frequentissimo procedimento giudiziale e quindi la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsene in tantissime occasioni e di fare un po' di chiarezza. perché dobbiamo dire che la legge ci aiuta in maniera letterale soltanto per quanto riguarda l'aspetto delle spese ordinarie, un po' meno per quanto riguarda quello delle spese a carattere straordinario. Ma andiamo con ordine, con la consueta praticità. Allora, quando interviene l'acquisto di un immobile, la legge dice chiaramente a tutela del condominio che colui che subentra nella proprietà dell'immobile, per quanto riguarda le spese ordinarie, condominiali ordinarie, è responsabile in maniera solidale, quindi allo stesso modo con il vecchio proprietario, per quelli che sono i costi dell'anno in corso e dell'anno precedente, articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ricordiamo, per capirci fino in fondo, che anno in corso vuol dire anno contabile, non necessariamente anno solare, quindi questa valutazione dipende da come i diversi studi di amministrazione compilano e tengono il bilancio del condominio. Quindi parliamo di annualità contabile. Cosa vuol dire essere responsabili in solido? Vuol dire che se, come sempre accade, il condominio, in caso di spese arretrate impagate, si rivolge al nuovo proprietario che sarà tenuto a pagarle, il nuovo proprietario si potrà rivolgere per la rifusione, la restituzione al vecchio proprietario. La legge quindi consente questo meccanismo di rivalsa. Quindi, come vediamo, per quanto riguarda le spese ordinarie, la situazione è abbastanza chiara. Diventa meno chiara quando si tratta delle spese di carattere straordinario, quindi gli interventi di ristrutturazione straordinaria sull'immobile, tutte quelle spese che non rientrano nella ordinaria gestione del condominio. È intervenuta la Cassazione negli ultimi cinque anni con delle sentenze piuttosto chiare sull'argomento. È stato individuato il criterio assolutamente semplice e di facile intuizione che ci dice a chi si debbano addossare questo tipo di spese. Contrariamente alla disciplina delle spese ordinarie, la Cassazione ha stabilito che il concetto cui bisogna fare assoluto riferimento, il concetto giuridico, è la proprietà dell'immobile nel momento in cui vengono effettivamente deliberati e approvati gli importi delle spese straordinarie. Questo che cosa vuol dire? In parole molto semplici, che nel momento in cui l'Assemblea ha approvato e deliberato le spese di carattere straordinario, quindi quelle per interventi di grossa ristrutturazione e di sostituzione di rinnovazione di parti condominali, dobbiamo fare caso a chi era l'effettivo proprietario dell'immobile in quel momento. Quindi nel momento in cui l'Assemblea decide che occorre fare delle spese di carattere straordinario, le dà in appalto e viene chiarito in maniera analitica quello che è il contributo che deve pagare ogni condomino in relazione a questi interventi, in quel momento si stabilisce chi dovrà pagare fra vecchio proprietario e acquirente queste spese di carattere straordinario, perché saranno addossabili solo a chi era in quel momento l'effettivo proprietario. Per capirci, quindi se le spese vengono deliberate prima o anche poco prima della vendita del mio appartamento, io anche se poi nei mesi successivi, perché ho venduto l'appartamento non mi gioverò più di questi lavori straordinari, per fare dei miglioramenti che il mio condominio ne avrà, sarò comunque tenuto a pagare in ogni caso le spese, anche se i lavori vengono fatti successivamente quando io non sono più il proprietario effettivo dell'immobile. Anche per oggi la puntata è terminata. Vi ricordo che se avete domande per i nostri avvocati potete scriverci. Avvocati rispondono a chiocciolecomizio.it. Noi ci vediamo settimana prossima. Studio Spataro. Amministrazioni immobiliari.